Smog, le polveri sottili a Como scendono ma restano sopra il livello di guardia e così, come stabilito dalle nuove norme antinquinamento di Regione Lombardia, da domani scatteranno a Como le misure anti-smog di primo livello. Stop quindi alle auto diesel Euro 4 o inferiori dalle 8.30 alle 18.30, stop ai camion e ai furgoni Euro 3 o inferiori dalle 8.30 alle 12.30, divieto di sosta con motore acceso per tutti. Per quanto riguarda i riscaldamenti, massimo 19 gradi in tutte le case e i negozi, con 2 gradi di tolleranza, divieto di utilizzo di stufe domestiche a legna di classe inferiore a 3 stelle, divieto di falò e fuochi all'aperto, divieto di spargimento di liquami zootecnici. Le misure resteranno in vigore fino a che le polveri non torneranno sotto il livello di guardia, ossia 50 microgrammi al metro cubo. L'impennata del PM10 a Como venerdì e sabato. Sabato addirittura le polveri avevano toccato quota 128. Ieri sono tornate a 63 grazie a vento e piogge, un valore comunque sopra la soglia d'allarme.